allora ragazzi buongiorno a tutti questo è il nostro questa è la nostra live in collaborazione con errante con il quale collaboro e ho diciamo tutti i miei conti di trading quindi la live sponsorizzata da errante mi raccomando non sono consigli di investimento non sto incentivando nessuno ad investire ma sono semplicemente le mie idee e va bene per un confronto ma ognuno le decisioni se le prende per conto proprio quindi adesso data un attimino un'occhiata veloce al nostro disclaimer mi raccomando e partiamo a vedere un attimino i mercati come siamo messi e facciamo un attimino il quadro della situazione e vi condivido quelle che sono le mie diciamo opinioni personali allora allora ragazzi quindi io che uso l'indice del dollaro questo adesso sono sul daily del grafico dell'indice del dollaro adesso lo vedo ribassista questo mi servirà poi per vedere un attimino come siamo messi su ad esempio su euro dollaro quindi questo adesso sono passato su euro dollaro indice del dollaro ribassista di lì quindi grafico dell'indice del dollaro ribassista euro dollaro rialzista quindi correlazione inversa giustamente no questo per me è molto importante da capire diciamo che ora dicevamo cioè ora io avevo una visione più che altro su euro dollaro di di chiusura diciamo di questa di questa distribuzione parlando di daily invece ieri con i dati ha fatto la sua bella discesina cioè ha fatto una discesa fatto ha fatto il suo rialzo oggi ha aperto la giornata andando a ribasso ed è ritornato a testare verso i massimi ora io mi sto puntando diciamo questo tipo di scenario cioè poi vediamo tutte le valute ragazzi piano piano il giro lo facciamo un po dappertutto ora mi sto valutando questo tipo di scenario o adesso andiamo verso un doppio massimo questa è un'opzione che io tengo in considerazione o andiamo verso un doppio massimo e diciamo da qui il prezzo sì magari ti fa una rottura rialzo per poi tornare a scendere però io vorrei vendere diciamo che la mia intenzione dopo questa dopo questo rally rialzista che è partito praticamente da aprile metà aprile no se consideriamo da quando è iniziato a fare massimi e minimi crescenti no quindi da circa metà aprile questo rally rialzista diciamo che continuare a comprare per quanto riguarda il lungo termine quindi andare a rialzo vorrei evitare di farlo quindi parlando di lungo termine vorrei adesso siamo su grafico daily sì è vero bisogna bisogna vedere anche quando apre apre il mercato americano per vedere un po che cosa succede sì sì è vero anche questo perché noi ad esempio ecco infatti uno dei scenari che mi stavo tenendo a mente era proprio questo cioè oggi abbiamo avuto la sessione londinese con un rialzo no tutta la prima diciamo tutta la prima metà della giornata abbiamo avuto la sessione rialzista può essere che nella sessione pomeridiana il mercato si torna diciamo a scendere e potremmo trovarci ad esempio una candela daily di indecisione quindi di questo genere no poi ragazzi io sono pasticcione faccio tante queste tante tante robe abbiate pazienza però quando spiego faccio disegnini sul grafico un po è un po come gesticolare per me nella vita reale no quindi quindi sono così allora quindi se dovessi trovarmi una 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 candela di indecisione di questo genere sul daily sul daily senza che vada a rompere i massimi questi massimi assoluti di questa distribuzione quindi di tutta questa di tutta questa distribuzione qui no ecco io inizierei a guardare qualcosina su un time frame più basso esempio adesso vi faccio vedere su h4 innanzitutto inizierei a guardarmi in h4 innanzitutto inizierei a guardarmi in h4 chi mi segue da un po sa che io sono un amante di concetti diciamo di 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 volatilità abbinata a quella che è anche l'analisi ciclica no perché come ho appunto detto diverse volte ci sono diversi modi di leggere diverse letture diciamo di di grafici c'è la price action nuda e cruda ci sono tutte le varie teorie wyckoff eccetera eccetera i concetti smart money però ecco a me piace tanto il concetto di volatilità questo non vuol dire come dire non vuol dire vedere effettivamente attraverso un data feed tutte le informazioni nascoste all'interno della candela no perché voi sapete che se voi dove doveste avere ad esempio un data feed con il quale vedere i dati quindi tutti gli scambi che avvengono all'interno della candela avete così avete più informazioni però diciamo che questo a parer mio potrebbe essere più utile per gli scalper aggressivi nel brevissimo termine questo l'ho detto tantissime volte quindi persone trader diciamo che fanno trading sul minuto in maniera in maniera diciamo aggressiva ecco io non sono quella tipologia di trader per carità a volte mi capita di fare trading sul minuto però su altri concetti no mentre a me il concetto di volatilità per il tipo di trading che faccio io mi basta vedere semplicemente i pattern delle candele no cioè proprio la candlestick pattern è proprio la candela in sé no quindi per me vedere una candela con una volatilità di questo genere poi è logico che il tutto va contestualizzato il tutto bisogna sempre bisogna sempre abbinare tutta questa cosa qui tutti questi concetti alla propria strategia quindi alla propria visione di mercato no quindi questo è molto 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 importante vedete che io gesticolo qua proprio all'italia si vede che sono cresciuto a milano italiano proprio così sono sono uno da 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 piazza da bar allora mentre quindi vedi questi concetti insomma ho gesticolo qua ragazzi ho gesticolo facendo scarabocchi sul grafico una roba incredibile non riesco a star fermo quindi concetti di volatilità per me contestualizzati su su un discorso di movimenti statistici e forza di mercato di momentum quello che volete hanno 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 la loro valenza e io ho trovato diciamo la mia strada in questa in questa maniera qua no perché perché dico questo perché a volte ci sono diciamo ci sono alcune tipologie di strategie dove non so si va semplicemente sul breakout immaginiamoci facciamo un esempio banalissimo poi dopo riprendiamo la carrellata delle analisi facciamo l'analisi di un po di tutto e do diciamo il mio punto di vista su 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 tutto su un po tutto dove vedo un qualcosa di chiaro dove avrò dei segnali un po più chiari però indizi più che altro no da parte del mercato allora diciamo che ci sono strategie che non so ad esempio hai la tua struttura facciamo finta è proprio senza star qui a badare a nulla hai il tuo breakout no ad esempio al tuo breakout di struttura e appena avviene questo breakout ci sono quelli che entrano mercato no io ho notato che facendo trading facendo trading con utilizzando questi concetti tanti tanti concetti che ci sono diciamo nel mondo del trading e utilizzando quindi anche dei breakout come trigger come come punti di ingresso ma non sfruttando la volatilità quindi non sfruttando una direzionalità bella decisa del mercato ho notato che le performance comunque sia non erano poi così cioè erano sempre comunque sia vuol dire essere sempre profittevoli in questo caso qui però logico che tu col tempo cerchi di affinare il tutto di migliorare di abbassare il margine d'errore no ecco ho notato che faccio attuando già aggiungendo i concetti di volatilità sulle mie strategie sul mio modo di operare ho aumentato appunto questo questa probabilità di riuscita del trade ma soprattutto ho notato che rimango molto meno a mercato perché perché facciamo facciamo finta facciamo finta adesso vi faccio un esempio cioè voi immaginatevi di non so state inseguendo un un trend state inseguendo un trend no quindi non so la vostra strategia trend following che quindi segue che segue che segue il trend no cosa succede voi ad esempio aspettate questo breakout di struttura per entrare ma quando ma questo breakout avviene adesso sto facendo veramente un esempio banale ma questo breakout di struttura avviene quindi questo massimo voi state aspettando il breakout di questo massimo questo breakout avviene con una candela che poi alla fine quando siete arrivati qui adesso vi faccio proprio un esempio con una candela che poi alla fine si chiude nel suo movimento fa il suo breakout sì cioè fa fa questo benedetto breakout però poi alla fine quando chiude chiude così ecco io ho notato che quando faccio quando facevo questo tipo di entrate che non so hai tutta la tua strategia ti sei costruito tutta la tua strategia tutto quello che ti pare piace e quindi alla fine di tutto il tuo la tua entrata era proprio su questo breakout quindi hai valutato tutte le tue cose dici ok è successo questo benissimo ok aspetta ancora questo aspetta ancora quest'altro setup e appena pronto il tutto arriva questo benedetto breakout che stavo aspettando e entro a mercato quindi esclusivamente ad esempio ci sono ci sono quelli che fanno ad esempio i pendenti no quindi si mettono ad esempio il pendente in questo caso qui dovresti mettere un buy stop teoricamente no perché se se tu ti trovi più basso rispetto al tuo prezzo d'entrata metti un buy stop invece se il contrario un buy limit no ecco tu ad esempio ti sei impostato il buy stop perché quella è la tua entrata no il breakout si avviene quindi il prezzo un attimino sopra e quella è la tua entrata ecco io addirittura ad esempio ho notato che quando facevo questo tipologia di cose e non aspettavo ad esempio logico che poi dopo tutto va contestualizzato però adesso ve la sto facendo proprio semplice e non aspettavo l'entrata del non aspettavo la chiusura di quella che era la candela di ingresso cosa succede? succede che il grafico ti fa il breakout il tuo ordine scatta poi la candela chiude così diventa una candela quella che diciamo dal punto di vista di analisi tecnica si chiama candela di indecisione la tua diventa una candela di indecisione e il mercato che cosa fa? ha fatto se sei stato ad esempio un attimino in positivo per poi rimanere in laterale e poi rimanere qua poi immaginati di essere entrato ad esempio su H4 su H4 vuol dire che tu magari una candela 4 ore altre candele 4 ore perché? perché il mercato ha fatto il breakout ma poi è rimasto in laterale no? questo che cosa vuol dire? qua ci sono due fattori importanti da considerare quando succede questo o questo tipo di strategia va rivista in sé per sé se tu tradi semplicemente a breakout vuol dire che c'è qualcosa da rivedere se perdi tanto tempo perché il mio problema era proprio che rimanevo più tempo a mercato poi è logico che non so se su 5 trade fatti in questa maniera qua di cui facciamo finta facciamo un esempio 8 vanno a profitto ma di questi 8 6 stanno a mercato tanto tempo ecco questa cosa qui non mi piaceva allora è proprio questo il rischio insomma diciamo il discorso di tutto di tutto questo bel discorsetto è proprio questo il fatto di rimanere tanto tempo no? a mercato quindi per riuscire a liberare margini sul grafico e riuscire ad entrare a darmi delle nuove chance per entrare nuovamente a mercato con altre operazioni ho dovuto abbinare i concetti di volatilità però c'è un però perché abbinare i concetti di volatilità che cosa vuol dire? vuol dire che se tu hai una struttura facciamo finta che la tua strategia fa sempre come regola il breakout quindi tu devi rompere questo massimo per entrare al rialzo ma se tu hai bisogno di romperlo con la volatilità quindi non puoi permetterti di avere la candela che a prescindere da tutto appena ha rotto questo prezzo qui tu entri no? tu hai bisogno della chiusura di questa candela e se questa candela cioè il prezzo tuo di entrata ideale sarebbe stato qui ma la candela chiude così così faccio un esempio no? qui fa il suo breakout e la candela chiude così tu teoricamente dovresti entrare al rialzo cioè dovresti entrare a un long a un prezzo che in realtà è più sfavorevole perché se tu stai entrando long logicamente come un po' la legge del mercato cerchi di comprare in sconto cerchi di comprare a un prezzo più basso per rivendere ad un prezzo più alto è un po' la regola del commercio in generale nel mondo no? ecco ho notato che ad esempio cioè sicuramente ci arrivi da solo che sai che se devi abbinare a una candela molto volatile quindi una candela ampia con una volatilità confermata hai bisogno di entrare ad un prezzo che è sfavorevole no? teoricamente quindi questo che cosa comporta? questo giacchetto qui che cosa comporta? che devi rivedere tutto perché poi devi riadattare il tutto adesso adesso ci arrivo ti rispondo devi riadattare il tutto quindi devi fare in modo che questa questa entrata non sia troppo sfavorevole devi dovresti riuscire cioè devi trovare la situazione cioè io di che altro mi sono dovuto trovare la situazione di riuscire a sfruttare questa cosa qui al mio vantaggio e quindi insomma cercare di di riuscire ad avere comunque sia un buon profitto senza senza dare diciamo senza come dire senza compromettere quello che sarebbe stato il profitto che avrei avuto se fosse partito dal più in basso quindi bisogna ricostruire ricostruire un attimino tutto bisogna riadattare il tutto e questo è una cosa che diciamo sono riuscito a fare quest'anno in realtà perché io sono stato tanto tempo a fare le cose in questa maniera qui pur essendo profittevole però vi ripeto il mio problema era quello di rimanere tanto tempo a mercato io volevo ridurre questo tempo a mercato in base al time frame quindi dovevo cercare di se mi fa un ritracciamento dopo quella candela ho diciamo diversi scenari diciamo che se tu attui una strategia che si basa sulla volatilità ma a parte che qualsiasi strategia con la quale tu operi tu devi sempre almeno questo è il mio modo di vedere il mercato ad esempio io che faccio tanto trading di posizione quindi magari abbasso le sides ma non vado di stop loss questo non vuol dire che non esiste chiudere in perdita attenzione vuol dire che semplicemente avendo una size più bassa sono meno soggetto diciamo alle fluttuazioni di quello che è il mio capitale in base ai movimenti che fa il mercato quindi posso ho il tempo di decidere anche se devo chiedere in perdita per carità però chiudo io a vista cioè controllo e chiudo sempre a vista però ecco sulla base di questo diciamo che ci sono diversi scenari cioè io prima di decidere di prendere consapevolmente la decisione di entrare al mercato senza l'utilizzo di uno stop loss in questo caso lo faccio abbassando la size perché ho ho in mente già uno scenario diverso nel senso che ho già in mente uno scenario in cui dico cioè metto in considerazione il fatto che il grafico potrebbe andarmi contro e se mi va contro ho un piano d'attacco diciamo mi entra il piano B diciamo che io tutti i trade che faccio ho sempre il piano B e il piano C sempre devi essere preparato a quello che potrebbe succedere anche in una situazione diciamo di svantaggio no? per te no? per il tuo portafoglio e quindi in questo caso qui che cosa devi devi saperti muovere diciamo bene con l'esposizione che hai a mercato quindi devi saperti gestire le posizioni questa è una cosa molto importante se lavori senza stop loss se invece lavori con lo stop loss allora lì cioè in base a quello che è il tuo stop loss calcoli l'esposizione che tu vuoi avere l'1% 2% 10% 20% 100% quello che ti pare e in base a quello tu ti calcoli la size ma invece se tu lavori senza stop loss è il discorso diverso allora ora facciamo un attimino una carrellata partiamo proprio dall'inizio quindi partiamo dall'inizio io vedo adesso mi sto tenendo monitorato mi sto tenendo monitorato quello che è l'indice del dollaro per capire un po' il dollaro cosa vuole fare quindi questo qui adesso siamo su grafico H4 indice del dollaro e vedo vedo un ribasso vedo questo minimo che io mi tengo sempre in considerazione io solitamente me li segno proprio così me li segno proprio così tanto per capire che questo che è il minimo assoluto ad esempio in questo caso qui è una spike quindi so che questo è il livello di minimo assoluto vedo che qui ad esempio si sta rimangiando sta cercando di rimangiarsi aspettiamo la sessione pomeridiana per capire un po' per capire un po' quello che vuole fare per capire un attimino quello che vuole fare l'indice del dollaro vuole forza cioè vuole prendere forza vuole andare a rialzo vuole ritracciare partire con una nuova distribuzione rialzista vuole continuare a ribasso ha perso forza quindi questo è uno di quelle cose è uno di quei di quei grafici che mi tengo come appunto detto come indicatore questo qui per me è come se fosse un indicatore io lo guardo lo osservo non trado l'indice del dollaro ma lo guardo lo osservo per tradare poi su euro dollaro e compagna cantante ma poi ci arriviamo intanto adesso teniamoci a mente che qui abbiamo una spike e il mercato tentenna dobbiamo aspettare la sessione in questo caso pomeridiana audicad 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 l'ho tradato questa settimana qui no mi sembra di no adesso aspettate che vi faccio vedere delle operazioncine queste ad esempio sono delle operazioncine che ho fatto adesso non so se voi vedete bene il tutto ad esempio questa è l'operazioncine che ho fatto sia su sdn quindi sia su sdn sia su caccia hf e insomma diverse ne abbiamo fatte qua vedete un guadagno comunque si ho fatto i miei 1400 euro su uno dei conti su caccia hf audicad zd ah si audicad l'ho tradato in long però settimana scorsa però perché non so devo andare a vedere adesso vi rimetto tutte le cose come prima allora audicad l'ho tradato in long era il 13 ah si 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 il 13 si 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 il 13 ho preso qualcosina di questa di questa volatilità qua quindi semplicemente adesso logico voi non è che conoscevi tutta la mia strategia i dettagli eccetera eccetera ve la dico proprio cioè vi dico quello che è in maniera grossolana insomma prossima attiva però questo è quello che è successo no diciamo che semplicemente ho sfruttato questo movimento qui e la mia strategia essendo trend following trend follower quindi questa è ho preso parte alla salita un continuo e ho preso qualcosina di questo rialzo non tanto non è che ho fatto chissà tutta questa questa parte ho preso una parte poi poi sono uscito sono uscito al mercato ora siamo arrivati ad una situazione di massimi quindi adesso ha fatto questo 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 massimo qui addirittura ha rotto questo massimo qui quindi io direi che dal punto di vista di H4 dopo un'espansione di questo genere anche se io tendenzialmente sono seguo il trend però fino a un certo punto diciamo che diciamo che fino a un certo punto ora cerco operazioni da ora in poi cercherò posizioni short nel breve termine adesso essendo su H4 queste questa mega espansione qui essendo su H4 no io cercherò delle posizioni short di ritraccio può essere un ritracciamento può essere un'inversione non mi interessa adesso vi parlo che guardando l'H4 io su un time frame ad esempio come quello che potrebbe essere un H1 mi cercherò delle posizioni short però devo aspettare di avere una conferma di volatilità devo aspettare una conferma di volatilità perché ora in base a quella che è la mia strategia anche se ti cambio il time frame aspettate faccio un po' di pulizia qua ora ad esempio su audicad non ho ancora segnali questo qui ragazzi che vedete questo qui è l'indicatore di pivot questo qui è semplicemente il classico indicatore di pivot settato sul daily quindi questi sono i vari livelli di pivot sono i tre livelli di pivot che tengo in considerazione il resto non mi interessano anche perché sono troppo lontani non mi interessa però ora su audicad se guardo l'h1 non ho segnali certi convinti pieni di ribasso ora se dovesse andare su m15 guardando già da h1 lo posso già capire non ho ancora cioè sono in questa fase di diciamo di lateralità sono piuttosto che in una lateralità a meno che adesso da qui mi dia un qualcosa di ritraccio qualcosa di più potente posso iniziare a valutare facendo un'analisi più approfondita potrei iniziare a valutare di entrare a mercato in maniera diciamo di costruirmi quello che sarà poi un'entrata magari a mercato ribassista però per ora non vedo nulla di tutto ciò a parte che oggi essendo giovedì a prescindere da quello che fa oggi non credo che farò nulla ho avuto già delle ottime performance questa settimana qui non ho voglia di non ho voglia di rovinarmi le performance lascio fare ormai al mercato e se ne parla poi per settimana prossima ma per oggi per sta settimana qua va bene così io solitamente se arrivo al giovedì già al giovedì mattina che ho fatto già bene da inizio settimana tendo a smettere a non chiedere troppo al mercato quindi insomma questo è perché poi sai c'è sempre di fare quell'operazione di troppo che ti rovina il tutto che magari ti fa stare al mercato magari nel weekend e tu non hai voglia hai guadagnato hai chiuso tutto il tuo conto è libero da tutte le operazioni basta mi va benissimo così quindi questo è un 15 minuti ad esempio su AudiCAD ora sembrerebbe sì qualcosa me lo dà però sai cos'è il discorso sapete cos'è il discorso che quando arrivi da un movimento diciamo forte e rialzista e capiti qui rischi di che qui ad esempio ha fatto un minimo questo livello qui rischi di entrare al mercato poi il mercato ti rimbalza perché comunque si affa la sua compressione quindi fa la sua lateralità compressione per poi ripartire quindi preferisco anche per questo motivo qua preferisco aspettare poi per carità adesso io sto guardando il 15 minuti perché non vado sotto ma sicuramente chi trada ad esempio il minuto no e ha delle strategie diciamo di inversione o qualcosa che prende ad esempio che prevedono la vendita dai massimi no ad esempio a caso sicuramente qualcuno qua si prende si prende qualcosa no dal mercato però ecco in questo caso qui in questo periodo della vita della mia vita non è questo perché non voglio non voglio dedicare tanto tempo ai grafici come gli inizi stando lì non è più non fa più diciamo per me voglio ho scelto questa vita per stare per godermi essere libero anche nel gestire il mio tempo no e quindi devi adattare poi ognuno fa quello che vuole però dovresti riuscire ad adattare il il tuo trading in base a quello che a come vuoi vivere e il tempo che vi vuoi dedicare no a questo mestiere questo è analisi ciclica la mia è una 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 combinazione di analisi ciclica di di price action di di volatilità sono tre cose cioè sono tre cose che io ho semplicemente messo assieme mescolato nell'insieme e e basta questo è analisi ciclica poi c'è dietro la teoria di Elio ci sono dietro tante cose che poi la teoria di Elio è una una forma di analisi ciclica o meglio le analisi cicliche sono quelle che poi conosciamo oggi diciamo le evoluzioni sono derivano da quelli che sono i concetti di Elio poi ognuno se le fa in maniera diversa se la data se le se le fa a modo suo allora qui torniamo su H4 Audi CAD siamo messi così ad esempio Audi Yen ecco ad esempio Audi Yen aspetterei piuttosto un ritracciamento perché adesso ormai è un treno in corsa è già partito per andare long però aspetterei ad esempio un ritracciamento per per entrare mercato qua adesso ci sono dei vecchi scalabocchi non so cos'è però ecco aspetterei un ritracciamento per entrare long nuovamente a mercato quindi questa è la mia visione però ora assolutamente nulla ah guardate che bello che bello quasi sono dei miei canali che mi sono fatto come che mi sono fatto come per me questa era un'analisi proprio mia per me che mi sono organizzato io ero entrato avete visto anche sul conto che avevo mostrato prima che ho fatto delle operazioni che ho fatto delle operazioni rialziste su sul caccio hf però ora vedo che il mercato addirittura ha pagato anche di più di quello che io ho sfruttato va bene così insomma va bene sopravvivremo a questa salita quindi caccio hf questo è un h4 però io in realtà lo lo davo per me cioè proprio io lo vedevo long proprio su dal punto di vista daily proprio per me sul daily era era lo vedevo cioè volevo cercavo una ripartenza cercavo una ripartenza ora sto vedendo sulla candela daily di oggi che sta facendo un bel un bel rialzo logico che è all'interno diciamo di questa di questa di questo di questo canale no logicamente adesso cercherò quelle che sono dei movimenti di rialzo di rialzo più nel medio lungo termine quindi adesso io semplicemente partendo da una base daily mi sto già mettendo in testa che io il caccio hf cercherò situazioni long su time frame più bassi quindi se qua su daily sta partendo su caccio hf h4 aspetto magari un ritraccio per rientrare long e se vado scendo di time frame logicamente cercherò sempre in base a quella che è la mia strategia cercherò sempre entrate long fino a quando fin quando il daily non mi parlerà di short o comunque sia quando il daily mi dirà guarda che ho fatto il mio movimento faccio un esempio ho fatto il mio movimento ma anche qui ad esempio è arrivato il momento di ritracciare allora qui sul time frame più bassi prenderò quelle che sono cercherò situazioni short però logico di breve periodo perché finché la struttura in generale non continuerà long ora adesso diciamo che è troppo presto parlarne ora abbiamo un primo indizio si lo abbiamo in realtà su time frame più bassi che anticipano un attimino però vediamo questa cosa qui per ora l'unica cosa che io vedo è volatilità rialzista su daily una ripartenza rialzista su daily questa è l'unica cosa che vedo poi il resto ragazzi si vedrà ciao caro buongiorno quindi questo questo è quanto quindi caccia hf da segnare anzi io ogni tanto mi segno anche queste cose qui proprio sul 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 block notice ragazzi sul block notice mi segno ste robe e quindi caccia hf long adesso me lo scrivo caccia hf long quindi daily di tanto per non che intro long visione long poi dopo o vai a cercarti i long me lo dico da solo kdn idem ragazzi kdn su daily quello che mi sembra di vedere quella è una ripartenza quindi su kdn anche lì long sia su kdn euro yen anche euro yen anche tutte quelle con lo yen per ora per ora tutte quelle con lo yen audio sd cercavo uno short che non sono mai riuscito mi sembra ad entrare a mercato non sono mai riuscito ad entrare a mercato avevo fatto diciamo mi ero preparato tutte delle analisi poi quando mi sono ricordato di audio sd insomma o io ero a mercato con altro adesso non mi ricordo però mi sono perso il trade io quando era qui da qualche parte qui adesso non ricordo di preciso però eravamo qua sui massimi cercavo proprio un movimento short che poi in realtà il grafico è partito io non l'ho fatto pazienza sì 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 è correlato quindi euro dollaro vediamo un po' cosa sta succedendo guardate guardate ad esempio questo discorso qui questo che mi ero segnato no? l'esempio cioè l'effetto di quella che potrebbe essere ad esempio uno degli scenari che mi sono messo in testa che prendo in considerazione cioè tipo questa roba qua vedete che adesso il daily di oggi si sta rimangiando la candela quindi se si dovesse rimangiare diventare una candela di questo genere qui quindi di indecisione no? vengono chiamate così spesso no? candele di indecisione quando si studiano queste candele ecco valuterei ingressi short su time frame più bassi time frame più bassi H4 per ora ancora una conferma non me la sta dando euro dollaro su H4 ancora non me la sta dando vediamo su se H1 tentenna tentenna però ricordiamoci che i movimenti così a V sono piuttosto non rari però diciamo che è un po' azzardato cercare movimenti di questo genere poi soprattutto questo è dovuto ai dati solitamente se il mercato magari ti scende se vuole scendere prima magari ti fa un accenno poi ritorna su o va in compressione no? e poi parte e fa quello che è il suo movimento o ma ribassista o o torna a fare una nuova distribuzione a rialzista però un minimo di distribuzione cioè un minimo di lateralità te la fa quindi se si è ad esempio sui massimi se vuole vendere dai massimi e fa appunto sta cosa qui ecco io tendo a non vendere appena fa un accenno di ribasso no? piuttosto piuttosto azzardato no? quindi questo è quanto quindi abbiamo detto daily sto aspettando euro dollaro per uno short per continuare lo short ora usd yen si sta rimangiando usd yen si sta rimangiando sono entrato sono uscito dal mercato in tempo bello bello bella lì sono contento ho preso una bella un bello un momento diciamo una bella fase rialzista euro euro dollaro canadese ecco anche euro cad ho fatto uno short ho preso ho portato a casa qualcosa non tanto pensavo facesse un movimento un po' più profondo però diciamo che adesso voi vedete un grafico daily ma i miei short sono quelli che sono contenuti all'interno in realtà di queste spike ribassiste su time frame più bassi ho fatto dei short di breve però in realtà era un'idea di trade intraday to swing quindi sapete che ecco un'altra cosa che ci tenevo a dire a me piace ad esempio impostare un trading di questo genere dove io riesco a fare un'entrata cioè dove cerco di fare un'entrata ecco il perché di non stare tanto a mercato grazie alla volatilità perché perché io ad esempio ti faccio un trade su h4 che magari potrebbe essere gestito e se non time frame comunque h4 o daily è un time frame che ti permette comunque sia di stare a mercato più tempo no perché prevede è un time frame e se non time frame alto logicamente fai due o tre candele di lateralità prima che il movimento continui cioè se ti fa un po' di candele così o sono 4 ore 4 ore 12 ore insomma magari fai anche 2-3 giorni rischi di fare anche 2-3 giorni prima che il movimento non so continui però sfruttando la volatilità diciamo che abbasso questo rischio quindi entrando su setup che prevedono anche alta volatilità abbasso questo rischio di rimanere tanto a mercato scarpe no non faccio non faccio ho già detto che ho fatto delle belle performance ho chiuso la mia settimana di trading non faccio più nulla fine della storia cioè per me stasettimana qua settimana di trading ho già chiuso sono contentissimo non bisogna essere avidi cliccare 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 perché sta roba qua porta non porta non porta bene statisticamente e quindi non faccio trade oggi oggi facciamo un attimino il check della situazione diciamo un quadro generale la situazione però eurcad vedo 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 lo short cioè nel senso vado a cercare lo short di continuazione cercherò settimana prossima specialmente cercherò degli short audice hf audice hf ecco audice hf mi piace vedere questo grafico qui per cercare un long mi piace mi piace mi piace mi piace audice hf mi piace come cosa perché ecco ad esempio un'altra cosa che mi sono studiato comunque sia nel tempo è il fatto di vedere provate a fare ad esempio questo esercizio per vedere se vi trovate immaginate vedere candele alta volatilità ragazzi le candele alta volatilità per chiarirci sono candele profonde lunghe visivamente profonde cioè che non serve star lì per forza calcolare vedere delle belle candele ampie belle decise con poca spike cioè così massimo cioè candele alta volatilità confermate che hanno una spike di questo genere non va bene cioè se tu hai una spike così sì c'è stata volatilità nell'arco di questa giornata o di questo arco temporale però poi una decisione chiara questo è il messaggio che io prendo dalla candela questo attenzione è molto importante questo messaggio qui cioè io se guardo una candela ad alta volatilità cerco una decisione un risultato quindi se guardo il daily questo vale per tutti i time frame cioè se guardo anche l'h1 e vedo una candela che si chiude così vuol dire che facciamo finta senza spike facciamo finta che non è affatto questa è una candela immaginiamoci che questa è una candela rialzista se io vedo nell'arco di un'ora che il grafico logicamente se poi guardassimo sul minuto all'interno di questa candela o il grafico a 5 minuti la candela ha fatto ad esempio così 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 cioè ha fatto i suoi movimenti rialzisti ribassisti 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 vuol dire che all'interno di questa ora le contrattazioni hanno portato il grafico quindi il risultato delle contrattazioni all'interno di quest'ora hanno portato si sono chiuse con il rialzo quindi con una conferma intenzione una confermata intenzione per quanto riguarda la singola candela una confermata intenzione di rialzo quindi hanno facciamola proprio semplice banale qui hanno vinto i compratori no facciamo che mettiamola perché poi non è proprio corretto dire così però facciamola semplice quindi qui tra venditori e compratori hanno hanno vinto hanno vinto i compratori quindi all'interno dell'arco quindi questo è quello che a me serve sapere questo questo per me è importante sul 5 minuti sì ma allora 5 minuti per che cosa per guadagnare più in fretta perché vi interessa questa roba qui perché volete avere più soldi velocemente tutto più veloce più veloce più veloce più veloce no allora diciamo che i concetti di volatilità se tu fai utilizzare la volatilità su un grafico H1 tu puoi stare a mercato anche su un grafico H1 puoi stare a mercato 10 minuti fondamentalmente sul se abbini i concetti di volatilità su un grafico M15 ad esempio sui 15 minuti fai in tempo a fare l'operazione perché il grafico M15 comunque sia ti lascia anche il tempo di operare di entrare non devi essere lì come gli allucinati no? là davanti il grafico ad aprire ma se sfrutti la volatilità il fatto proprio stesso che ci sia la volatilità e tu sfrutti i concetti di volatilità anche su time frame più ampi ti permettono di stare meno a mercato è quello che sto dicendo da praticamente tutta la live però devi metterti anche sì 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 scalping per me è più che altro 15 minuti però devi metterti anche nella situazione di poter dire guarda cioè io che cosa cosa voglio fare voglio avere più probabilità di successo quando fai trading devi fare un attimino un pensiero un ragionamento con te stesso io voglio avere voglio diventare profittevole voglio essere profittevole o voglio fare più operazioni possibili voglio prendere tutte le occasioni devi anche mettere in considerazione che fare più operazioni vuol dire esporsi di più cioè fare tante operazioni vuol dire anche darsi più possibilità di sbagliare quindi perché riempire il conto di operazioni quindi fare trading sul 5 minuti vuol dire riempire il conto di operazioni vuol dire fare continuamente trade di movimenti più con meno diciamo escursione no perché sul 5 minuti non vai a fare 100 pips se tu più scendi di time frame solitamente si abbassa anche quello che è il range dei pips prova a vedere se per te è più importante fare magari meno operazioni più studiate più calibrate diciamo e darti la possibilità di prendere più fetta diciamo del mercato vuol dire meno stress stare meno davanti ai grafici e avere un altro tipo di 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 vita da trader no se tu fai trading sul 5 minuti devi stare tutto il giorno davanti ai grafici non so se 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 ti piace buon per te a me non piace sta roba a me non piace non è per me questo non è fare trading vuol dire vuol dire essere schiavi un po' di se stessi cioè se tu scegli di fare trading per liberarti da quello che è magari la vita da dipendente perché magari vuoi gestirti il tuo tempo per fatti tuoi non perché la tua azienda ti dice che devi entrare le 8 di mattina a uscire alle 5 e alla fine tu smetti di fare quello per diventare per fare il trader che lavora magari su un grafico da 5 minuti e magari fa 5 operazioni sbagliate 5 operazioni giuste quindi sei lì sempre a cercare il profitto vuol dire che tu alla fine diventi schiavo di te stesso cioè diventi schiavo di te stesso e non 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 va bene non va bene cioè per me questo è il mio concetto io se devo fare devo smettere di lavorare sotto padrone per fare trading è perché il trading deve essere in modo tale da permettermi di gestire il tempo di star tranquillo di farmi magari l'operazione come ad esempio non so come potrei dire ok entro in questo caso sul daily ti entro in questo caso sul daily con un'operazione facciamo facciamo un esempio uno con rischio rendimento uno uno di questo genere no rischio rendimento di questo genere poi solitamente che cosa faccio facciamo finta che questa potrebbe potenzialmente essere una mia operazione adesso senza entrare troppo magari in dei dettagli perché dovrei stare qua sei giorni a spiegare la strategia e non è il caso poi è mia la strategia è un modo mio di operare replicarlo al 100% non so neanche se è possibile ognuno dovrebbe trovarsi un po' la propria strada perché ognuno ha la propria emotività i propri occhi io come vedo il grafico io non la vede Giuseppe non la vede Antonio Francesco o chiunque sia ognuno vede le cose nella maniera nella sua maniera quindi bisogna sempre adattare le cose è un po' quello che è la propria persona però ad esempio questa potrebbe essere una mia entrata ad esempio però io vedo io per uscire a mercato io per uscire a mercato e mettere tra virgolette diciamo in sicurezza il conto che cosa faccio se l'operazione va a parte io non è che aspetto il target io arrivo a un certo punto io guardo tanto i livelli di inefficienza poi qua adesso ragazzi adesso quelli che fanno trading con i volumi diranno eh ma lì non sai se inefficienza se qua se là qua è successo a me non interessa io questo lo dico proprio dal punto di vista grafico esclusivamente da quello che vedo nelle candele perché io ho studiato proprio questa questa cosa qui solo dal punto di vista grafico a livello proprio statistico di quello che succede a livello statistico no? cioè che quando un grafico arriva a riempire questi vuoti qua può esserci inefficienza può essere tutta può esserci qua tutto può essere successo qui non mi interessa sapere nei dettagli quello che è successo io dal punto di vista grafico statisticamente ho visto ho notato che il prezzo quando entra in questa zona di imbalance di inefficienza il prezzo reagisce tende magari a reagire perché vuoi che quelli che hanno buttato giù il mercato da qui qui probabilmente vorranno magari rientrare con degli ordini o magari hanno dei pendenti o magari hanno n motivi cioè per n motivi qui magari il grafico tende ad esempio a a ritracciare e dato che io non so quello che c'è qui quello che potrebbe succedere qui non lo so non posso prevedere il futuro adesso arriviamo adesso arriviamo il livello di inefficienza adesso te lo spiego dato che io non so appena il grafico entra in quest'area io parzializzo l'operazione quindi facciamo esempio che io sono entrato qua con due lotti sulla chiusura della candela non so la candela ha chiuso ok io dico va bene adesso entro io entro ad esempio qua con due lotti e il grafico raggiunge ad esempio il livello di inefficienza quello che per me potrebbe essere un'inefficienza può essere qualsiasi cosa però io dal punto di vista grafico ripeto dal punto di vista visivo grafico quindi io vedo qua un vuoto un gap il prezzo appena entra dentro l'area quindi vedete questo massimo qui vedete che il prezzo non ha raggiunto cioè non ha fatto questo movimento il prezzo adesso cancello tutto vedete che qui il prezzo è crollato poi ha fatto una successiva candela ribassista però la spike è stata di poco quindi questo movimento qui non è rientrato in questo range di contrattazioni il prezzo non è rientrato qui per far scattare ipoteticamente altri ordini che portano al ribasso no il prezzo da qui è crollato e poi è continuato a crollare quindi io al di sopra di questi massimi al di sopra di questa spike appena sopra 1-2 pips sopra questa spike io parzializzo quella che è la mia operazione quindi torniamo a ripetere facciamo finta che la candela sia chiusa qui io ho deciso di entrare facciamo finta io ho arrivato a questo livello no? con rischio rendimento 1-1 senza fare senza fare troppe cose immaginiamoci che io in questo caso abbia utilizzato lo stop loss perché io poi ho diverse strategie ho strategie che prevedono lo stop loss e quindi la size si va in proporzione a quello che è lo stop loss quindi vado e la mia esposizione che ho deciso di diciamo di utilizzare per questo trade no? ecco quindi se io ad esempio qua ho voluto entrare con l'1% rischiare l'1% del conto devo guardare in questo caso lo stop loss e qual è il prezzo dello stop loss e calcolare la size in base al capitale e quello che ho e il livello di stop loss quindi questo significa calcolare la size in questo caso qui che cosa potrei fare? in questo caso qui io potrei se prevedo uno stop loss io ho un rischio rendimento 1-1 e quindi ho una size di un tipo se invece io non utilizzo lo stop loss perché voglio andare ad esempio a fare mediazione del trading quindi fare trading magari di posizione e gestire questa operatività non so facendo diverse anche posizioni o gestire comunque sia in maniera diversa e insomma decido di non mettere lo stop loss perché logicamente riduco la size perché in questo caso qui quando tu sai qual è il tuo stop loss è una size che va in base alla tua esposizione quindi se ti vuoi esporre dell'1% la size potrebbe essere non so di 3 lotti faccio un esempio ma se tu lavori senza stop loss logicamente la size va ridotta e in base a quello che sono i tuoi calcoli e quello che sono la tua esperienza no decidi una size che logicamente è più bassa no perché devi attuare una strategia cioè è una metodologia diversa che prevede anche una reazione un tuo intervento nel caso il grafico dovesse scendere questo non vuol dire che tu non chiudi in perdita cioè che non esiste chiudere in perdita no vuol dire che o vai a mediare e la risolvi mediando o vai ad esempio o se no o se la situazione è proprio l'analisi sbagliata il grafico crolla e c'è da chiudere sei tu che chiudi però abbassando drasticamente la size ti dai anche la possibilità di non mettere in crisi il tuo portafoglio questo parlo per me cioè come proprio opero io mi do la possibilità a me di non mettere in crisi il portafoglio e di decidere di di chiudere perché il grafico ad esempio è crollato no perché il grafico ad esempio è crollato questo cosa vuol dire che se io ho una roba di questo genere con lo stop loss adesso per farvi capire un attimino poi andiamo avanti sulla parzializzazione dell'operazione e riprendiamo il discorso cioè se io qua ho sono in perdita di 1000 euro perché ho deciso di perdere 1000 euro qua quindi lo stop loss qui equivale al mio 1000 euro se lavoro senza stop loss quindi se trado senza stop loss il mio 1000 euro cioè la size per far sì che io abbia perso cioè sia in perdita di 1000 euro la size deve essere tale da farmi perdere quei 1000 euro se il grafico non arriva qua ma arriva ad esempio qua faccio un esempio no quindi io mi do tempo cioè mi do tutto questo range di movimento del grafico per gestire per decidere se chiudere l'operazione o intervenire o aspettare o insomma fare quello che devo fare no no allora il concetto di leva ragazzi è una cosa tu puoi avere la leva anche uno a un miliardo non c'entra la leva non c'entra la leva la leva non deve essere il vostro problema la leva ti permette di usare meno margine per fare le operazioni con lo stesso lotto ma se tu la size la devi oprire da 0.10 perché la tua esposizione da 1% su quel trade risulta cioè tu dovresti aprire una size da 0.10 per rischiare l'1% tu quella devi aprire cioè il problema non è la leva è la size che utilizzi il lottaggio cosa ti interessa della leva la leva puoi avere fondamentalmente puoi avere uno teoricamente potrebbe avere anche una leva da un miliardo ma se il tuo conto è di 1000 euro faccio un esempio e devi aprire una size da 0 non so 0.05 lotti tu devi aprire una 0.05 perché le tue regole prevedono un'apertura da 0.05 fine della storia che qua tu hai una leva a 10 cioè uno a 100 uno a un miliardo cioè sempre 0.05 sono non è che cambia non cambia nulla quindi torniamo a noi qui detto questo ragazzi e chiudiamo qui se io ad esempio devo dovesse entrare adesso a mercato io ad esempio quando vedo i livelli di inefficienza io arrivo da questa parte e sempre per i motivi che ho detto prima che non so cosa succede all'interno di questo gap di questo livello qui che per me è un'inefficienza io valuto come inefficienza statisticamente vedo che c'è una reazione io qua parzializzo quindi qua ritiro una parte del mio trade e metto uno stop loss a 0 cioè al prezzo di entrata in questa maniera qui sono risk free cioè sono sono non rischio più quindi segno ipotizziamo se la mia operazione è qui è questa qua no facciamo finta io intanto il prezzo è arrivato qua il prezzo arriva qua e dai quando il prezzo arriva qua io ritiro quindi il prezzo io qua ritiro la posizione metto lo stop loss a 0 quindi questa parte qui per me diventa questa chiaro quindi io se il prezzo scende io non ho perso più nulla il portafoglio semplicemente non ho perso nulla se invece va a target buon per me guadagno quello che volevo guadagnare quello che mi ero prefissato insomma se l'operazione sarebbe andata bene quindi questo questo è quanto ragazzi poi il resto ragazzi ci vediamo dai per la prossima settimana facciamo un'altra live facciamo un po' il punto della situazione e in generale vedremo come saremo messi mi raccomando seguitemi sui vari canali nella bio c'è ci sono c'è link poi per entrare insomma con me su telegram per rimanere comunque sia aggiornati sulle live eccetera eccetera e nulla ci vediamo alla prossima settimana ragazzi e buon weekend a tutti fate i bravi mi raccomando ragionate con la vostra testa non fatevi mai condizionare va bene avere un confronto ma ragionate sempre con la vostra testa le decisioni le dovete prendere voi ciao ragazzi buon weekend ciao